non digli che mi hai dato i soldi li vuole anche lui e zingaro non gli darei niente li vuole solo i tuoi soldi io voglio il tuo il tuo effetto ecco bravo dimmi dimmelo dimmelo guarda tanto non lo troverà vero è un comando diverso vero richi ok vai screen screen una noce noce c'è noce e pigna oddio che cosa che bella combo a 10 milioni sono stati aggiunti al tuo account ecco è riccardo ma vaffanculo ma allora bastasse che bastavo che facevo slash pay ma vaffanculo ma l'ho fatto anche prima solamente ho visto che non mi comparivano i punti i pointi ma io faccio slash points slash points guarda che zingaro ho 100 miliardi di point guarda che zingaro poi la gente gioca con lui tutto scioppato fino alla morte ecco come vince nei video sembra che stai dicendo ragazzi perché hai detto regà perché c'è tanto allora te lo chiedo un'ultima volta perché hai detto regà eh no perché c'era riccardo non è vero sì c'era riccardo poi c'è 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 l'una che devi andare a chiedere che cazzo è l'una? no c'è il sole in realtà riccardo è mattina cazzo la droga si fa fatta da di meno eh cazzo no 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 avevo la freya attivata me la so disattivata no 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 è perché hai visto riccardo che cadeva che hai un primo Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.